Siamo con Ismail davanti all'Istituto Paolino Secco Suardo, com'è andata questa prova di maturità? Spero bene, ho trovato una traccia che mi interessava, non troppo di attualità come pensavo, però una traccia interessante c'era. Quale traccia hai scelto? La A2, quella sulla regalità. Qual è la prova che ti fa più paura adesso? Più l'orale oppure la seconda prova? La seconda prova, no, se non mi quesite, vabbè, sono di studio, l'orale ci vedrà come vanno, se vanno bene i collegamenti, seppure ti tartassi di domande, non lo so, non saprei. Ho 18 anni, vengo da Stezzano, oggi ho fatto la prima prova, quindi quella d'italiano, ho scelto la tipologia C, ossia il testo argomentativo, ho scelto la traccia di sport e società, ossia come lo sport influenzi la società o positivamente o negativamente. Sono maggiormente preoccupata in realtà per l'orale, in quanto la procedura di orale è stata un po' fumosa, non siamo molto certi di come funzionerà, ma sono abbastanza contenta di poter presentare la mia alternanza scuola lavoro.